Le visioni strategiche che ci consentono di lavorare assieme, fare sistema può essere una retorica, riempire di contenuti l'idea di fare sistema significa lavorare assieme, tra regione e comuni, considerandoci come partner mossi dagli stessi obiettivi. Con questo SAC noi vi proponiamo un'altra lettura del Salento, un'altra possibilità di vivere questo territorio, un territorio che non vuole essere consumato come spesso avviene, ma in questa proposta di SAC noi ve lo proponiamo come un Salento da accarezzare e lo si può accarezzare, per questo mi riferivo prima alla nostra musa, utilizzando quello che di bello, unico e irripetibile c'è ed è in larga parte legato al proprio paesaggio, alla propria storia, ai propri costumi, al proprio insieme di midi, al proprio insieme di rigi, al proprio insieme di poesia che per tutto l'anno è possibile in qualche modo accarezzare. E infine coinvolgere il partenariato, mille partner, non come figuranti, non come firmatari, non come semplici fiori all'occhiello che ogni SAC ha inserito nelle carte per trasmettere alla regione per aspirare a un punteggio più elevato, ma quel partenariato è fondamentale per dare corpo, sostanza per tradurre in pratica i progetti. Grazie.